Allora la prima domanda è se la battaglia per i diritti in Italia possa essere al centro di un'agenda di governo almeno per il nostro futuro? Dovrebbe essere, perché i diritti sono quelli che non soltanto rispettano le singole persone, ma tengono insieme una società. I diritti del lavoro certamente in primo luogo, ma ci sono tanti altri diritti, i diritti civili che vengono negati, i diritti riguardanti il governo libero della propria vita. Nascere, vivere, morire, i diritti che ci portano a riconoscere l'altro, che sia l'immigrato o il quale noi riteniamo diverso da noi. E quindi c'è un programma che è indispensabile, perché questa è una società all'interno della quale molti nessi si sono spezzati. E o si ritorna su questa strada, senza trascurare le altre ovviamente, ma è sembrato e è stato nell'ultima fase che invece l'unico riferimento fosse la logica sinistra. E i disastri li vogliano. Solo un'altra domanda. Dov'è il popolo della sinistra? Oggi potremmo dire che si trova in questa piazza, ma abbiamo visto anche come nel Movimento 5 Stelle, alle Quirinarie, il consenso si è raccolto attorno alle figure più tradizionali della nostra sinistra. Dov'è questo popolo? Cerchiamo in questo momento in particolare di non indicare confini, barriere. C'è chi vuole salvaguardare una vecchia identità della sinistra e quindi si chiude in qualche piccolo fortilizzo che serve a poco o non serve a nulla, perché nelle ultime due elezioni, due liste di sinistra, nel 2008 la lista della sinistra al cubaleno, questa volta la lista in groia, non hanno superato la soglia. Quindi questa è una strada assolutamente perdente. Se continuiamo a non renderci conto che la logica della sinistra è quella di dover ritrovare il suo popolo, che cosa diversa da un confronto tra stati maggiori, non andiamo molto lontano.